C'è un protagonista, un personaggio di un noto sponsor, non posso dire di più, quindi non so, facciamo... No, non è qui, no, no, eh, con i tele... ha a che fare con i telefoni, vediamo un po' se arriva... Sì, SCQR, vediamo un po'? Basta, andò, basta, eh, non devi finì, basta con sta canzone, perché non è possibile, non è possibile, è più di un anno che andiamo avanti con sta storia, basta! Ah, so io, so io, so quello da pubblicità, so io. Che c'è? Che, scusi, che c'è da rite, scusi? Ah, signora, ma... ma viste ingrassato, eh? Sono un po' ingrassato, sì, lo so, lo so, è che stiamo facendo la nuova promozione, questa nuova team ballo, un sacco di team ballo, sì. Sì, 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 ma proprio tante team ballo, ma ne frega di team ballo, un sacco, un sacco. Poi, siccome per una questione di marketing, allora mi hanno detto, Walter, dobbiamo promuovere la nuova linea 3G, allora che ho fatto gnocchi di patate, girello di vitello tonnato e gelato di pecora. Quindi abbiamo fatto proprio una promozione a tutti gli effetti, esatto. Lo so, so io, so quello della pubblicità... Ah, ma ho capito, ho capito, ho capito, perché poi ci sta pure quell'altro che lo fa su Rai, Mediaset e Sky, ma quello è uno. Io sono l'unico, in equivocaboli, l'originale su Abruzzo Channel, sì, so io, so io. Mi hanno fatto vincere le selezioni di Arros Team. E quindi mi hanno detto, devi andare a Roma a fare la finale, capito, quindi vai a Roma, farai la promozione e tutto il tuo lavoro sarà nella capitale, hai capito? Ho detto, va bene, però una parola arrivare alla capitale, cioè, come si fa, io vengo da un paesino, che succede? Che tu esci dal paese, devi attraversare colline, montagne, campagne, e con la macchina che fai? Scrivi un fosso, un brecciolino, una voragine, voragine, fosso, brecciolino, voragine, fosso, brecciolino, non vedi loro che arriva la tua strada e finalmente arrivi nella capitale. Fosso, voragine, brecciolino, fosso, voragine, brecciolino, e dici, ma che? Ma credo che a me sono sbagliato, no, 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 stai sulla di Burtina, non te preoccupare, sei arrivato. Cara Paola, cara Paola, non è facile, perché poi mi hanno detto, lei deve lavorare a Roma, quindi lei deve prendere la residenza qui, mi raccomando, si deve sposare con una bella romana. Allora, oh, a voi mi vedete, dice, belloccio, c'ha un po' di panza, magari sotto è dotato, è dotato, è dotato, però, dice, ho avuto una fortuna di trovare una bella bricoca, una bella stangona, Guardate, presente Paola? Magari, però, insomma, è bionda, 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 abbronzata, altica, con quasi tutti i denti. Mi sono messo con una bella romana di quelle tipiche che ci hanno, presente, quelle che ci hanno il cagnolino e il barboncino sempre attaccato, che non si staccano mai, no? Allora, dice, amore, non ti piace il mio cane? Sì, sì, quanto è bello il suo cane, è bello il mio cane, è bello. Senti, ma come si chiama il suo cane? Bao, ho capito, ma come si chiama il cane? Bao. Scusa, il cane si chiama Bao? Sì. Vabbè, ma non possiamo chiamare in altro modo il suo cane, a me mi sembra. No, a me Bao mi piace tantissimo, è un nome originale e non ce l'ha nessuno. E ti si chieste perché non ce l'ha nessuno? Questo perché, questo perché, ha detto, vabbè, mi chiamano a Roma per lavorare, dobbiamo fare il testimone, e li metto con la donna romana, e tu si deve adeguare, dice, vabbè, teniamoci pure a sto cane, ma... Il problema di chiamare un cane Bao è doppio, perché uno dice, ma vuoi vedere che mo' che facciamo un figlio lo chiama un Guè? Vabbè, è questo. E questo ci può stare. Seconda cosa, quando tu porti a spasso sti cane, che fa? Il cane scappa, e tu lo devi chiamare. E comincia a fare, Bao, 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 Amoro tesoro, andiamo che il Signore è pericoloso a Baia, mamma mia. Mamma mia, ma questo non è niente, non è niente, anzi. Comunque, no, non vi voglio dimenticare che adesso stiamo facendo nuove applicazioni, abbiamo fatto una nuova app per la nostra, sempre per l'Arrowsteam, una nuova app per tutti coloro che lavorano in campagna, se ti chiamano, ti arriva un messaggio, tu puoi usare WhatsApp. Questa è fredda, arriva dopo, ma magari la cancelliamo. E poi, aspetta, scusate un attimo, chi è? Pronto? Ma, eh, no, sto alla televisione, sto alla televisione, sì. No, vintiti vicino alla finestra, che non... Ah, vicino alla finestra, che non zende. Mettiti vicino alla... Uff, lo so che non prende, ti ho detto mille volte di farti la Vodafone, ma guarda che sei incredibile, sei proprio incredibile. Grazie, grazie. Vieni qui, Walter del Greco. Ciao.